E continuiamo a parlare di Serie D. Mario è il momento del Fasano. Oggi chiediamo ospitalità Fabrizio al tecnico del Fasano, Giuseppe La Terza, che è in diretta in collegamento video Skype. Buon pomeriggio, ben ritrovato mister e grazie per la disponibilità. Grazie, buonasera a tutti. Insomma mister, non sono giorni bellissimi per tutti. Tu come li stai riempiendo? Come stai vivendo questo momento delicato per l'Italia? Ovviamente come tutti, a casa, cercando di rispettare il protocollo sanitario e cercando di riempire la giornata con la mia famiglia ovviamente. Parliamo un po' di questi campionati bloccati da ben oltre un mese, quasi due mesi insomma. Sei favorevole ad un'eventuale ripresa oppure per te non ci sono le condizioni? Se non si dovesse riprendere, mister, che cosa ne sarebbe delle classifiche? Qual è la tua idea a tal proposito? Beh Mario, ovviamente parlando da persone intelligenti è normale che adesso il protocollo sanitario non è attuabile nella nostra categoria. Quindi di conseguenza più passa il tempo e più perdiamo le speranze di poter riprendere a giocare. Ma onestamente in questo momento i numeri non sono dalla nostra parte e dobbiamo rispettare tutto il lavoro che si sta facendo all'interno della nostra nazione. Quindi restiamo calmi, aspettiamo di vedere come si evolverà la situazione. Per il momento onestamente la vedo difficile in una ripresa di campionato. L'auspicio è che almeno a settembre ci siano le condizioni poi per ripartire. Sulle classifiche invece come dovrà andare a finire, mister? Mario, io penso sempre che i campionati si vincono sul campo. Adesso è ovvio che anche l'ultima parte della stagione è sempre importante. È sempre quella parte della stagione dove ti permette di vincere il campionato come ti può permettere anche di perdere. Ci sono ancora partite importanti da giocare, sia da punto di vista di alta classifica ma anche di bassa classifica. Però una decisione va presa ed è ovvio che in questo momento per me bisogna cristallizzare la classifica, secondo me, è affidare e assegnare alla squadra che è attualmente prima di vincere il campionato. Ovviamente anche da punto di vista il Bitonto è anche meritato. Poi ci sono anche quelle squadre tipo il Foggia dove ovviamente merita anche qualcosa in più perché effettivamente è solo un punto dalla prima e non è facile accettare una decisione del genere se si dovesse far salire solo la prima. Eh sì, gli scontenti sicuramente ci saranno. Sicuramente ci saranno. Sicuramente ci saranno. Credo che sia inevitabile, mister. Hai parlato di gare importanti in questa fase della stagione. Ne parleremo tra un po' e di una che era molto importante per voi. Ora invece ti chiedo, c'è il rischio di un clamoroso e netto ridimensionamento del calcio dilettantistico? Diverse società rischiano seriamente di sparire, secondo te? Beh, sì Mario, perché quel calcio dilettantistico si poggia molto sulle sponsorizzazioni e su quello che la città può offrire. Ovviamente ci sono presidenti che ce la mettono tutta, passione, ci mettono qualcosa di loro ovviamente anche dalle loro aziende. Però questo è un momento complicato per l'intera nazione, sappiamo benissimo da un punto di vista economico, che è una catastrofe ed è ovvio che ci saranno delle difficoltà per tante squadre. Chiedo alla regia di proporre le immagini relative al pomeriggio più significativo della vostra stagione e cioè la semifinale di Coppa Italia di Serie D vinta 4 a 0 al Vito Curlo contro il Tolentino. È stata una cavalcata davvero trionfale, la vostra probabilmente per colpa della Coppa ad un certo punto avete, tra virgolette, snobbato un po' il campionato. Quanto è grande messere il rimpianto di non poterla giocare la finale di Coppa? Io penso che già guardando queste immagini, quell'abbraccio finale alla fine dimostra quanta voglia avevamo di passare quel turno e quanto ci abbiamo messo soprattutto nell'ultima parte. Non abbiamo snobbato il campionato, ma abbiamo avuto delle difficoltà proprio dal punto di vista fisico perché siamo andati incontro a diversi infortuni e abbiamo giocato tanto in quel periodo. Non abbiamo potuto gestire fisicamente alcuni giocatori e abbiamo rischiato tanto. Purtroppo siamo trovati incontro a dover fare delle scelte. Ovviamente la scelta più importante in quel momento era la Coppa e abbiamo lavorato molto su quello. L'abbinamento, sì sì mister, completa, completa. Adesso non giocarla ovviamente è un grande rammarico, però ripeto se torniamo indietro e guardiamo tutto quello che sta succedendo nella nostra nazione da persone intelligenti passa ovviamente il secondo piano. Sì, l'abbinamento viene quasi naturale. Fassano, allenatore, Giuseppe, la terza. Questa è stata la tua sesta stagione alla guida di Biancazzurri. Ti chiedo, ce ne sarà una settima, ne hai già parlato con il presidente Franco D'Amico? No, non ancora perché ovviamente tutti abbiamo, come in tutte le altre squadre, abbiamo ancora la voglia di poter tornare in campo e la testa in questo momento è lì. Ci sarà come ogni anno la possibilità di fermarci e di parlarci e di ragionare sul futuro sicuramente. Come abbiamo sempre fatto ogni anno, perché è vero che sono sei anni, compresi due da calciatore, sono otto anni consecutivi a Fassano, però è ovvio che ogni anno, con molta tranquillità e senza dare nulla per scontato, ci si ferma, si programma e vedremo se c'è ancora la possibilità di continuare insieme. Allora resteremo in aggiornamento per capire gli eventuali sviluppi. Per il momento, grazie Giuseppe, la terza, allenatore del Fassano. Grazie mille mister, a presto. Grazie Mario, buonasera a tutti. Grazie mille.